Ben ritrovati amici di borsa da Anthony Famulari. Allora, come ogni giovedì applichiamo il metodo Fammi Live. Sono rimasti soltanto due titoli, due azioni, Occidental Petroleum e Mechesso, una in leggera perdita e l'altra in guadagno. Avevamo 31 azioni, se vi ricordate, diverse settimane fa, ma l'SP500 è entrato in una fase negativa e progressivamente il nostro sistema, il metodo Fammi, ci ha fatti adattare a questa fase negativa. Però, progressivamente, noi compriamo sempre le azioni più forti grazie a Elant Forza, che mette in ordine, in base alla forza, le 500 azioni che fanno parte dell'SP500 e noi, quindi, comprando sempre le più forti, rispettiamo la procedura, rispettando le regole. Durante una fase negativa, lentamente, ogni titolo scambierà sotto il prezzo medio-volumetrico e quindi, piano piano, andremo a chiudere le nostre posizioni adattandoci a quella che è una fase negativa. Quindi, restano soltanto due titoli. Adesso, queste sono le azioni più forti attualmente dell'SP500. Questa è la prima, Lambo Western, che scambia sopra il prezzo medio-volumetrico. Non possiamo, ovviamente, comprarla perché? Perché siamo in una fase negativa generale. Cioè, l'ampiezza di mercato dice che siamo in una fase a rendimenti negativi e quindi non si compro le azioni. Poi, vedete, come Elant Forza mette sempre nei primi posti i titoli migliori. Nonostante l'indice generale stia scendendo, Lambo Western, questa azione qui, sta salendo e si mantiene sopra il prezzo medio-volumetrico, quindi ha un comportamento diverso rispetto all'indice genitore. Tuttavia, poiché siamo in una fase negativa, non si comprano azioni. Questo ci assicura drawdown limitati, perché non ci ostiniamo a comprare azioni durante una forte fase negativa. Immaginiamo che adesso l'SP500 continui a scendere, a scendere, a scendere. A noi non interessa più niente, perché non abbiamo azioni. Quindi, torneremo a ricostruire il portafoglio, torneremo a comprare dalla prima più forte, andando giù, distribuendo tutto il contante, tutto il nostro capitale, solo ed esclusivamente quando l'SP500 tornerà sopra 435,98 oggi. Cioè, quando tornerà in una fase positiva. Ok? Chiaramente questo canale poi si adatterà al movimento del prezzo e nel tempo andrà ad avvicinarsi. Bene, andiamo... questa settimana non c'è praticamente nulla da fare. Gli unici due titoli sono questi qua, rimasti. McCasson scambia sopra il prezzo medio-volumetrico, non dobbiamo fare niente, quindi manteniamo. E poi abbiamo Occidental Petroleum, che ha chiuso all'interno del... sopra del prezzo medio-volumetrico e quindi anche questa la dobbiamo mantenere e lasciare per la prossima settimana. Se la prossima settimana ce la ritroviamo qui, la vendiamo e rimaniamo soltanto con un titolo, altrimenti continuiamo a mantenere questa azione. Ok? Quindi, come vedete, pochi minuti a settimana, ogni settimana. Ciao a tutti ragazzi! Grazie.